Mi stai tirando le orecchie Mi stai tirando le orecchie Maresciallo questa cosa non è a norma Le infrastrutture No maresciallo non è uno spinello Ciao ragazzi tra poco me ne vado Oggi vi presentiamo ufficialmente Un mini progettino Di riunire i 4 Mates moderni Ovvero io, Cristo, Sedia E Berrofronzo Poi per le prossime settimane slash mesi Fino a quando non ci romperemo assolutamente I coglioni di questa cosa Faremo un sacco di live di gaming Sotto il nome di Imates Bello, nice Ci sei? Ma sei un carabiniere, bastardo Così Lo sai che cosa stavo pensando? Sì dimmi Che il creatore dovrebbe imparare a cantare Come Frank Sinatra Ma sapete come si gioca? Due volte Più o meno, che dobbiamo fare? Mi ho giocato pochissima Allora, lo scopo è arrivare alla fine della mappa Risolvendo tutti gli enigmi Con la collaborazione di tutti quanti Ma soprattutto grazie alla collaborazione di Raid Shadow Legends Non lo vedete che si sentono Silenzio un secondo Guardate che se non mi lasciate vi faccio la multa Ok Non parteggiate vicino alla rotaia Perché poi come faccio a non uscire Ragazzi ho buttato giù l'unica cosa necessaria No Stavo ringraziando le sub Perdonatemi Cosa dobbiamo fare? La pizza C'è un posto di qua Che è possibile raggiungere con un supporto Ma questo supporto è stato appena gettato Nelle fiamme dell'inferno da Poldo Guarda, guarda Guarda, guarda Che sta succedendo? Ce l'ho fatta ragazzi Tiratemi su Ah questo è il pulsante sentiti male Che figo Quello è il pulsante? Aiuto ragazzi Anzi sicurezza sul lavoro zero Oddio ma quello non è una guardia Allora prendete Vai 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 Ce l'ho ce l'ho Vai dritto Madonna ragazzi Allora ragazzi Così dritto Allora fermo Tieni giù così Sal Tieni fermo eh però Non mi fare il vecchio scherzo Mamma mia Mamma mia Se è tua sorella Come si Devo prendere dei tasti Poldo Poldo Oh Cristo Ma come si Allora Mi devi saltire sopra Ma vaffanculo Allora Cristo Tirimi la mano Tirimi la mano Ti tengo la mano Ce l'hai? Più dritto Più su Eh quasi No no Cos'è ma cos'è Siamo preso Ce l'ho Ce l'ho Ce l'hai Più su Vai 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 Tira Sì Perfetto È lui È lui No Evviva Avete quasi fatto giusto Quasi Ma se tenete l'hanno E io tipo salto di qua No Riesco No Decisamente Non puoi fare la presa Io ho un problema No Poldo Mamma mia Sei la capricciante Adesso bisogna iniziare da capo Papuini Veramente Due papuini Risorgiamo dall'altra parte Ma non l'ho detto Quindi secondo me Mister Bianchino La davanti Deve arrivare Ma what the fuck Mister Bates Ragazzi che cazzo ho fatto Ma l'hai visto Merro Allora ce la possiamo fare Secondo me Ce la possiamo fare Siamo della proprietà privata ragazzi Questa violazione Vai 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 Alzalo Alzalo Ok Ce l'avete fatta Ce l'avete fatta Tiratelo Oh Eh cazzo Piano 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 Oh Godo Mezz'ora di live Godo Godo Ragazzi Ragazzi ma perché camminiamo come se Insomma Le nostre palle fossero attaccate Tipo gli orangotani Ma anche voi siete sta musichetta qua E poi Ma ci può cadere Si può cadere Si può cadere È il gioco che fa sta canzone Ho cavalcato Cristo Sto cavalcando Cristo Verro là Che c'è Oh mio Dio Che la possiamo fare Ti sei fatto un giapponino Bravissimo Ondeggia Mamma mia Che agilità Le forze dell'ordine Mi dai una mano Cristo Per favore Non siamo scurili qua Ti do una mano Ti do una mano Ok La potete fare Ok Non posso grazie Ragazzi è rimasto solo Cristo Andiamo avanti No Stronzi di merda Sramma non è una leva È una torcia Ma non riesco a toglierlo via dal suo supporto È un fiammico Dobbiamo portarlo alla caldaia di prima E accendere il fuoco qua così Questo è un enorme spire Chi ha Chi apre No maresciallo Ce l'è in mano E maresciallo Io non vorrei Sistere Non lo tiri Lo spingi Ma porca di una miseria Deve spingerlo Lo spingi Bravissimo maresciallo Vabbia Il maresciallo Che si è sacrificato per noi Che uomo Ma guardate che questo è un incendio non controllato Dobbiamo chiamare Cazzo Perfetto Bravo Ragazzi mi hanno appena regalato 20 abbonamenti Fatemi cacare sotto Devo mettere le mani a coppetta Signori ma io mi giro un attimo Mi giro un attimo E qui si commettono degli illeciti Ragazzi seguitemi Ti seguiamo Ti seguiamo Ragazzi Non vi buttatevi sotto come se foste uno studente italiano Ok No dai Dai che terribile è questa Sei proprio strozzo Adesso che cazzo dobbiamo fare qui Mi sa che si fa da questa parte Signori ma che state combinando Che state combinando C'è un illecito qui C'è un illecito Zitto maresciallo Oh zitto maresciallo Sai che io ti porto in centrale Oh maresciallo Ma questa è violenza Ma dove sta Senti un po' Tu che hai votato Tu hai votato sicuro la sinistra Ti ha votato lui Ti ha votato la sinistra lui Guarda come si muove il mare Guardami 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 Oddio che schifo Che schifo Che sexy Facciamo direttamente sesso Sta funzionando Sta funzionando Come si sale là sopra secondo voi Ragazzi con la carrucola Mi aiutate a portare questo masso sopra per favore Ragazzi tolgo Cristo che sta muorendo Per favore mi devo mettere un attimo Nella mia cosa Ma perché in treno Non lo riusciamo a spostare Ragazzi Questa non è sicurezza sul lavoro Ti voglio portare in avanti Sei in Puglia Non c'è la sicurezza sul lavoro Mentre due di voi fanno quel lavoro Un altro mi raggiunge qui sopra per favore Faccio io Ciao perro Buongiorno Maresciallo mi sta schifando maresciallo Metti la freccia Metti la freccia Ciao maresciallo mi sei mancato Ciao Oh no no che pesa troppo sta cosa Allora signori muovete le palle di qua per favore Da questa parte Guarda guarda Attaccati alla palla Ma attaccati alla palla Sì Aiuto Aiuto State bloccando Non funziona Dovevo rifarlo Per me Per me Dovevo fare questa cosa No ragazzi Io mi ammazzo Io non lo so Hai vanificato il lavoro di 20 minuti Porca gioia Oddio Che cosa io ti uccido Vabbè ho capito Ci penso io alla carrucola Perché qua nessuno ci ha pensato Sì però non si cacchia addosso signore Please elevate my ball Smettila Please elevate my ball Ma allora Che ben educato No ragazzi Guardate cosa c'è qua Questo serve per attaccarsi A quella funivia Ma la palla l'avete fatta scivolare ragazzi No 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 sta su Sta su Sta sulla palla Ci penso Ci penso io Voi prendete gli altri Qui davanti dai Il momento dell'apertura della porta Del portone Della portanza Sì Punto Che c'è Non ho pantaloni Foto 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 Ma se Scusatemi Fermi qui Ma che abbiamo fatto Ma che minchia serviva la palla Oddio ragazzi qua c'è del platform State attendi Cosa c'è qui La porta Sto gioco, io sono abituato a minecraft Ok, che trick ci sono Ci sono Che vi posso dire ragazzi ma che cosa è servita questa cosa C'è un'altra roba che si può prendere tipo per gli achievement credo ma Nel concreto non serve per andare proprio avanti 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 Quindi ci dobbiamo suicidare praticamente Beh non necessariamente insomma e non andare di gesti così estremi ecco Ma questa è la fabbrica dei minions Berro io apro questa porta eh Lo metto nella spia rossa Dovresti immagino A posto Ragazzi questa strada è off limits per i giocatori di minecraft Giallo col giallo a posto Among Us Questo è Among Us Mancano due cavi maresciallo Fermi tutti Chi è lì il bustore? Maresciallo su cassa la miglia Questo maresciallo è un po' molesto Oddio No guardi che è illegale Arrivo Ehi Vorresti gustare Mamma mia se vorrei gustare La sedia a due gambe È morto oggi La sedia a due gambe è il 34 Puoi approfittare del fatto che non hai pantaloni bro Aspetta che ti prendo le palle Ecco ti ho preso le palle Guarda Tac Come i gatti Così diretto Fra parkour Fra parkour Fra parkour Guarda No niente mi sono rotto le palle andiamo Un albero Greta Thunberg prendi questo No questo l'ho portato io qua Lasci maresciallo Non sono scogli Alla mafia Ce l'ha la partita IVA? No perché? No così chiedevo Come cazzo la prendo però la cassa Ah boldo 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 Vieni da me Vieni da me Ma non posso Vieni da me No maresciallo Non tocchi Maresciallo stia lontano Guardi che noi facciamo anche cose buone Ha arrivato la cassa Ma vaffanculo Grazie alle forze dell'ordine italiane Ringraziamo l'arma dei carabinieri Non sono stati loro Ho acceso la corretta Ha ucciso la trivella Ha ucciso la trivella Ho preso un nugget Ha preso la confezione da 16 C'era l'offerta a 2,50 Guardate se io premo questo orpello Si alza la trivella E rivela un buco Ci vado Ragazzi Ragazzi io non posso scendere più Avete lasciato la trivella abbassata Volete vedere un maresciallo Che soffre di narcolessia Guardate guardate Allora ragazzi Qui tutto a posto? Bisogna sì a ferragosto Allora Ragazzi guardate cosa ho Ho una nocciolina Sono allergico però non va bene Maresciallo questa cosa non è a norma Le infrastrutture Vai prego Barrofronzo Signori avete allacciato Le cinture Le cinture Non c'è la norma di sicurezza Maresciallo Io farei un bel verbale Come si fa il collasso organico totale Y Eh no 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 Come hai fatto a salire la scimmia Ok A chi? A me? Eh sì Ragazzi ma perché ci metto 40 anni per salire? C'è il testo premete per salire Y Fa la contravenzione? No maresciallo Lo so che non è Y Serve quel masso fra Come lo prendiamo? Eh questa è una bellissima domanda Perché non ci arriveremo mai lì Ah ok Quell'idea si chiama Usare delle procedure non regolarizzate Cosa? Cosa? No ragazzi dovete scendere No non così Ragazzi dobbiamo portare questa cacca addosso di qua Stappa questo e mettilo là Tra un po' di giorni penso di stare meglio No 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 non mi portare le cacca addosso Mi basta leggere Non so se qualcuno ne abbiamo Madonna ma perché? Guarda come fare Ha preso il checkpoint Suka? Ho preso il checkpoint Gogo Matti si è fatto la cacca addosso Ed è pure grossa Allora qualcuno Aspetta Qualcuno mi aiuti Tenete Tenetelo Tenetelo Ah ok No si tiene da su Ah Uè ce l'ho fatta Ok ragazzi Mo al parkour Che vence moi Mi fate schifo Meno male Cazzo Ora è messo male Ora è messo bene Hai fatto? Ok Sì Adesso Ora puoi attaccarti quella cazzo di corda al collo E lanciarti giù Ma dai ma perché? Mi spiegate come cazzo funziona Ragazzi vi dovete togliere dai coglioni Mentre mi butto giù È semplice Adesso sedia Non mettete in mezzo Io Oddio no ma glincia Ma si è venuto da solo Confidate tutti in me Io prenderò il checkpoint No cos'è che andiamo tutti No 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 l'ho mancata proprio brutalmente Oh mio Dio No Cristo e Sparple Cristo e Sparple signori Sono il boss Cosa? Cosa si è riuscito? Matteo Messina del Arco Non hai il boss Allora ragazzi ci proviamo l'ultima volta seriamente Io sono il boss di Parma Tranquilli Ragazzi mi siete messi il casco prima di saltare Oddio No ragazzi niente Ma sei un dispossente Prendi il mio pipo Ti butti giù Prego 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 Ragazzi maresciallo Ma lei è veramente gentile Ma che ci fa per lo fronzucco? Fallito? Vai Cristo Vai cosa? Cazzo sono già giù Saloni Mi sono ricordato Foto 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 Ragazzi ho passato Sono passato Allora qua ragazzi ho un compito Devo prendere questo bastoncino Lo vedete? Tu che sei l'altro potresti farcela Vai L'ho preso E uscilla tra l'altro L'ho preso Come si fa la parte dell'acqua? Come si fa la parte dell'acqua? Ti prego prendi quel checkpoint Così posso uscidarmi in pace No ragazzi è l'uscita È l'uscita Mi sta venendo un crampo all'indice Ci sono Ci sono Sei preso Sì Checkpoint Checkpoint Siamo salvi Siamo salvi Fatemi uscire È partito l'ipotreno Grazie Ci sono Dove è l'uscita? Oh grazie al cielo Grazie al cielo Non ci posso credere Ce l'abbiamo fatta Applausi Applausi Perché veramente Complimenti a tutti ragazzi Volevo ringraziare anche le forze dell'ordine italiane Che hanno partecipato alla live Ragazzi ho quitto Ciao Io devo andare a dormire Un bacio Ciao 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 Ciao